Grazie per averci dato l'opportunità di approfondimento a dieci anni dalla normativa antimafia. E rappresentano un'opportunità perché in effetti il tempo è passato, degli adeguamenti sono stati fatti nel corso degli anni e un ringraziamento va alla professoressa Severino, alla vicepresidente della LUIS e alla presidente della Fondazione De Gasperi. Io proprio in relazione agli interventi che mi hanno preceduto dove si è detto che gli interventi più mirati vengono poi svolti dai relatori perché è stata fatta quella che è una visione generale della normativa fino ad ora portata avanti dai vari governi, dal Parlamento e evidentemente a noi relatori tocca ora andare più nello specifico delle disposizioni che nel frattempo si sono succedute nel tempo. Io vorrei ricordare che già la legge 136 del 2010 conferì la delega al governo e quindi parliamo di dieci anni fa per l'introduzione di un codice antimafia. Però c'era l'idea di intervenire da vari punti di vista e soprattutto era quello un momento emergenziale. Quindi l'interesse io credo che sia anche che quando si opera in settori complicati come quelli dell'antimafia bisogna avere un approccio diciamo non emergenziale perché è un approccio che poi deve rimanere nel tempo e deve essere anche vissuto in maniera diciamo anche dalla parte della magistratura degli operatori in maniera concreta quindi al di là delle singole situazioni. Quindi io devo dire anche che la delega rimase in parte inattuata tant'è che si pensava in un primo momento di inserire nell'ambito della delega tutte quelle che erano normativa penale, codicistica, extra codicistica però tutti questi aspetti rimasero fuori dalla delega perché il governo a suo tempo pensava all'esecutivo che l'estrema difficoltà tecnica di operare su questi ambiti proprio che io adesso penso anche alla ministra Cartabia che è alle prese con la riforma della giustizia sicuramente ogni volta che si toccano argomenti così delicati è un compito molto arduo che si presenta arduo dall'inizio e quindi ci fu la necessità di ridimensionare il progetto originario. Questa incompiutezza poi devo dire però che nonostante che siano rimasti fuori la parte del codice penale, il codice diritto, dell'ordinamento penitenziario devo dire che penso che sia abbastanza soddisfacente tutta l'opera di sistemazione che è stata portata avanti a livello anche novellistico e anche diciamo in maniera più innovativa delle disposizioni che negli anni sono andate avanti. Accanto quindi a quelle che sono le esigenze di intervenire nelle varie disposizioni io ritengo che fu importante il fatto di intervenire proprio da un punto di vista abbandonando quella che era l'ottica settoriale secondo un intervento più che altro chirurgico e delle disposizioni che non erano attualmente non erano effettivamente attuabili e quindi alla luce di questo si operò una visione più organica anche su un istituto quale quello della confisca allargata non regolato dal codice però da ricomprendere anche nel perimetro del progetto di riforma perché appunto venisse preservata quella che era la logica interdisciplinare della materia. Io devo dire anche che il processo di riformatore del codice antimafia sicuramente non è arrivata, non sembra essere giunto ancora a conclusione. Su questo ne sono certa anche perché mi riferisco a quello che diceva il nostro moderatore noi che siamo gli operatori che operiamo davvero facendo riferimento alle disposizioni ma soprattutto applicandole ci rendiamo conto che tante cose vanno ancora riviste e quindi quello che alcuni dicono e ritengo che sia assolutamente rispondente al vero c'è questa espressione di precarietà che oggi si può vedere perché è un cantiere sempre aperto. Però io lo vedo diciamo lo intendo in senso positivo nel senso di pensare che tutto è migliorabile e che ognuno di noi e quindi io ringrazio e saluto i procuratori che sono qui oltre che le forze di polizia perché tramite loro quindi e con loro noi lavoriamo anche per trovare degli aggiustamenti normativi che possano rendere più adeguate le norme man mano che vanno avanti. Le modifiche poi introdotte dalla legge 161 del 2017 hanno interessato vari aspetti dell'antimafia eliminando quelle che sono ombre. Qua il titolo di questo incontro sono luci e ombre e in effetti ci sono l'une e le altre quindi il titolo mi sembra davvero diciamo che ha colpito nel segno e devo dire che i tre pilastri fondamentali su cui della nuova legge quella che vi dicevo del 2017 sono il tribunale distrettuale, amministratori efficienti. Ecco su questo è un punto secondo me e noi l'abbiamo vissuto sempre per le misure di prevenzione quindi quando si parla di amministratori efficienti che rendano anche possibile la riduzione dei termini anche della procedura giudiziaria e poi voglio parlare dei nuclei di supporto che sono quelli che sono i bracci operativi della prefettura che da prima diciamo dell'agenzia dei beni confiscati che operano presso tutte le prefetture e devo dire che nel tempo questi bracci operativi hanno assunto sempre un rilievo più importante, più precipuo perché siamo riusciti anche a dare un assetto diverso con la legge finanziaria del 2020 un assetto diverso anche all'agenzia dei beni confiscati dando uomini e mezzi e risorse. Quindi io devo dire che ritengo anche importante l'attribuzione della competenza in materia di misure di prevenzione al tribunale del capoluogo del distretto proprio perché rafforza questa scelta di specializzazione del giudice di prevenzione consentendo anche di raggiungere maggiore circolarità informativa e noi sappiamo quanto è importante la circolarità delle notizie il parlare tra colleghi, parlare e riuscire a trovare anche una sintesi delle varie situazioni occorre anche dire che c'è un altro intervento chiarificatore che secondo me ha portato anche un ulteriore effetto di efficienza su tutta l'attività è quella che stabilisce che il soggetto preposto per la misura di prevenzione ablativa non può giustificare la legittima provenienza del bene adducendo che il danaro utilizzato per acquistare sia provento o reimpiego di evasione fiscale questo è un dato che assolutamente rimane fermo ed è condivisibile anche passare su un'altra questione importante che è quella le disposizioni in materia di selezione degli amministratori giudiziari noi negli anni passati purtroppo abbiamo avviso ci sono state anche delle vicende che hanno interessato purtroppo alcuni dei soggetti che sono stati amministratori giudiziari nel tempo e il fatto di determinare, di stabilire dei criteri di scelta del professionista secondo parametri che corrispondono anche a quella che è la complessità l'entità dei patrimoni da gestire e questa è una precisazione secondo me opportuna se la corregliamo alle vicende di quelle che sono le attività agendali per le quali si pone proprio l'esigenza di avere al vertice una persona che abbia capacità manageriale in grado di far fruttare il bene che viene a gestire perché ritengo che questo sia un elemento fondamentale proprio per la ripresa dell'attività produttiva e di restituzione anche al mercato di quei beni che invece ne vengono sottratti altrettanto opportuna mi pare la disposizione che introduce il principio di rotazione degli incarichi anche questo è un altro argomento che ci ha molto impegnato nella revisione del codice è proprio la rotazione dell'incarico degli amministratori giudiziari esteso poi ai coadiutori dell'agenzia volevo poi spendere una parola appunto per i nuclei di supporto che sembra per la verità più che altro offrire all'agenzia una collaborazione per quello che attiene più che altro vicende per così dire esteriori che attengono al core business dell'organismo consistenti nell'individuare quelle che sono le strategie più efficienti perché venga consegnato il bene nel più breve tempo possibile venga destinato agli scopi appunto voluti dalla legge io dicevo a proposito della domanda che mi era stata posta prima la questione cosa succede oggi laddove si tratta di un bene prima di arrivare alla confisca definitiva io oggi ci sono varie norme che hanno modificato tutto quelli che sono i principi che fino a pochi anni fa purtroppo limitavano anche la possibilità di utilizzo di beni ma la cosa importante oggi che noi siamo riusciti con l'articolo 32 con l'anticorruzione noi a salvare tante volte le aziende perché quelle che erano là dove c'era un management corrotto e comunque sia problemi anche connessi a quella che era la mafia noi siamo riusciti a porre delle strutture dei commissari che potessero governare tutto l'abbiamo fatto per esempio con il Mose voglio citare un caso che è abbastanza eclatante anche per i rilievi giudiziari che ha avuto nel tempo e con il Mose noi abbiamo nominato i commissari che hanno gestito tutta l'attività salvaguardando tutti quelli che erano i posti di lavoro quindi l'occupazione quindi senza creare problemi al di là di quello che invece inizialmente avveniva quindi io credo che oltre che l'articolo 32 io vorrei anche ricordare che noi un altro aspetto interessante è costituito dal che appunto la legge 161 ha posto ed è quella della misura che può evitare l'ablazione dei beni aziendali sostituendola con una forma di controllo giudiziario che non spossessa quindi non spossessativa dell'azienda quindi oltre che l'articolo che dicevo prima 32 della legge 90 del 2014 vorrei ricordare anche l'articolo 34 bis del codice antimafia che figura tra le tendenze normative più recenti volte appunto ad affermare l'utilità di un intervento di tipo alternativo al paradigma confiscatorio è chiaro che nei casi regolati dall'articolo 34 bis del codice siamo in presenza di situazioni in cui il grado di compromissione dell'azienda è sicuramente elevata e certamente in questi casi ho la convinzione che possa risultare effettivamente utile gli strumenti tesi ad evitare laddove si riesce a comprendere che si tratta pur grave ma di attività occasionali allora in questi casi certamente è più utile che evitare che sull'azienda vada a ricadere la scura del sequestro quando invece ovviamente sono misure e non parliamo di occasionalità è ovvio che gli interventi devono essere gli interventi più pesanti però in questi casi ritengo che non sia necessario arrivare proprio a questa misura così forte quindi direi che tra l'altro la legge è intervenuta anche per ampliare la platea dei soggetti nei cui confronti è possibile avviare l'azione di prevenzione per l'applicazione delle misure personali e patrimoniali previste dal codice antimafia e risalta la previsione che estende l'ambito soggettivo delle misure anche agli indiziati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione quindi con un espresso riferimento ai casi di corruzione infatti devo dire che proprio con riguardo all'inclusione tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione di coloro che lavorano con la pubblica amministrazione devo dire che nasce appunto dalla presa d'atto che il fenomeno infiltrativo mafioso si distingue per il ricorso spesso proprio accanto alla violenza anche a pratiche di tipo corruttivo e quindi corrisponde d'altra parte a un dato acquisito la capacità trasformistica delle mafie di adattarsi alle nuove situazioni e io parlo anche mi rifaccio a quello che aveva detto la professoressa Severino per quanto riguarda i fondi del PNRR perché sicuramente noi siamo pronti ad affrontare anche questa nuova sfida perché certamente le mafie la criminalità organizzata farà di tutto per infiltrarsi in un sistema che invece rappresenta per noi come paese un ripartire dopo un periodo di crisi e quindi riguarda un poco davvero il futuro del nostro paese e noi non possiamo consentire un inserimento delle mafie in questo ambito noi dobbiamo essere molto attenti devo dire che anche quando si è trattato in questo periodo di pandemia di dare risorse per sostegni alle varie categorie noi abbiamo sempre inserito nelle norme un'attenzione particolare in materia antimafia e non solo facendo anche i controlli anche successivi ben comprendendo l'esigenza di intervenire con immediatezza però senza rinunciare ai necessari controlli quindi devo dire che infatti abbiamo fatto vari protocolli abbiamo fatto con la SACE e con l'Agenzia delle Entrate quindi proprio per cercare di pianificare un sistema di controlli che anche successivi che ci porterà poi ad essere più tranquilli in questa fase quindi vorrei anche ricordare quello che è l'articolo 89 bis del codice antimafia sul quale devo dire e di modo anche all'epoca ero proprio come capo di gabinetto quindi mi ricordo benissimo che seguivo questa questione perché aveva introdotto l'articolo 89 bis un elemento importante che era quello degli accertamenti del prefetto nella forma più rigorosa anche non soltanto là dove si guardasse l'attività contrattuale con il pubblico ma anche nel privato io devo dire proprio personalmente non ero tanto convinta lo devo confessare perché avevo pensato che portasse un grado di impegno notevolissimo perché andavamo a toccare settori anche privati senza avere la certezza poi di avere dei risultati concreti io mi sono ricreduta completamente su questo aspetto e devo dire che effettivamente ha dato grandi risultati basta dire che io proprio in base a quest'articolo quando ero prefetto di Milano sono riuscita a chiudere una farmacia a Milano per mafia quindi proprio in base a quest'articolo 89 bis e quindi vorrei adesso concludere questo breve intervento perché non voglio togliere spazio agli altri relatori però vorrei dire che voglio vorrei chiudere dicendo che nell'immediato futuro la prevenzione antimafia potrà essere un alleato prezioso per il sistema paese e per le sue capacità di ripresa dallo shock della pandemia e quindi il mio augurio è quello che insieme si continui a lavorare mettendo tanti altri rami all'albero della legalità come ha detto il presidente Alfano perché i rami se sono robusti resistono e riescono anche a sconfiggere quelle che sono alcune limitazioni che purtroppo noi vediamo troppo spesso ma la squadra Stato è una squadra che esiste e secondo me insieme noi possiamo lavorare e fare d'argine a quella che sono le mire della criminalità organizzata grazie grazie grazie